se qualcuno un giorno bussa la tua porta dicendo che è un mio emissario non credergli anche se sono io che il mio orgoglio vanitoso non ammette neanche che si bussi alla porta irreale del cielo ma se ovviamente senza che tu senta bussare vai ad aprire la porta e trovi qualcuno come in attesa di bussare medita un poco quello è il mio emissario e me e ciò che di disperato il mio orgoglio ammette apri a chi non bussa alla tua porta a